nasce oggi una nuova Lega vogliamo far nascere una nuova Italia con il coraggio della Lega ma che non ha più barriere con fini del nord al sur l'emergenza di far ripartire il lavoro di aiutare le famiglie è un'esigenza per la Lombardia per il Veneto ma anche per Catania e per Salerno vedremo se condividono le nostre battaglie la prima alleanza la vogliamo fare con gli italiani soprattutto con quelli che non votano più da troppo tempo